Livio Giovenali è il nuovo campione nazionale di potatura dell'olivo. Quella appena passata è stata una domenica da bottino pieno per le Marche. Al successo del Tolentinate Giovenali, titolare dell'omonimo Frantoio e delegato della Scuola di Potatura dell'Olivo per le Marche, si è aggiunto quello della squadra regionale, composta dal neocampione in carica Edoardo Dottori e da Marco Paciaroni. La competizione ha premiato anche i migliori dieci partecipanti, molti dei quali cresciuti nella Scuola Potatura Olivo, confermatasi bacino di provenienza di nomi d'alta classifica. Non solo podio d'onore, anche per il miglior studente in gara, in questo caso ad avere la meglio sui coetanei, primi tre alunni classificati al campionato nazionale degli istituti agrari è stato Jacopo Guglielmi della Scuola Agraria Ulpiani di Ascoli Piceno. Menzione speciale anche per la prima donna in graduatoria, la potatrice, Loretta Proia del Lazio. Il campione giovenali ha sbaraiato il campionato, totalizzando 55,6 punti, distanziando il secondo e il terzo classificato, Luca Lancuba, Campania e Dottori giunti entrambi a 54,4 punti, ma con uno scarto temporale che ha consentito al primo di scavalcare il marchigiano. Le premiazioni si sono svolte nell'Aula Verde della Baria di Fiastra, location scelta per la ventesima edizione della rassegna nazionale di oli monovarietali, promossa da AMAP e all'interno della quale si è svolto il campionato di potatura. Tiriamo il sipario su un evento importante che vede le marche al centro dell'Italia, quindi tantissime regioni investono sull'olio e vengono a esprimere le loro qualità nelle marche. Quindi per noi è un motivo d'orgoglio, di prestigio e di vera qualità. E quindi ecco, le marche regione della qualità, regione del benessere, in cui AMAP esprime il suo valore aggiunto. E farlo poi in un teatro naturale, come quello della riserva della Baria di Fiastra, per noi è ancora di più motivo di prestigio. E su questo veramente siamo tesi a fare bene, siamo tesi a estrarre il meglio dai nostri produttori e dai nostri prodotti. Per me è stata veramente una sorpresa poter vedere come già la filiera marche sul segmento olio sia una filiera rodata, costituita, che ha un orizzonte comune. Su questo regione marche e l'assessore in particolare stanno facendo un grande lavoro di coordinamento. Ed AMAP è ben contenta di essere agenzia strumentale su questo lavoro, che si pone obiettivi importanti, ma concreti.